Ciao a tutti! L'antiscivolo per superfici Ambrosol è a prova di caduta. Vera performance di aderenza! Vediamo ora com'è e lavora un vero professionista dell'antiscivolo. L'antiscivolo per superfici Ambrosol agisce creando un rivestimento siliconico che a contatto con l'acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale. Può essere impiegato su superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere, per la sicurezza sul lavoro e per la tranquillità della propria famiglia. Ambrosol, un vero professionista in sicurezza e in aderenza. E che aderenza! Alla prossima! Sì, vai vai! Sì, vai! Sì, vai! Ma scivolo! Vediamo ora come lavora... Come cazzo sto parlando? lavora manco! Grande prrostrense razionali! 15 10! Ma in chiaverenza! Rade! Sì, là. Yeah! Cazzo è la giua giustizia! Grazie a tutti